Avviamo la registrazione perché c'è un film che dobbiamo discutere assolutissimamente anche perché ci sono questi due uomini qui che sono i protagonisti del film il film in questione si chiama Il mondo dietro di te The world behind, leave the world behind il titolo originale quindi vediamo, parleremo, è molto importante parlare di questo film che ho appena visto su segnalazione della mia girlfriend adesso andiamo subito a vedere di cosa si tratta di cosa si tratta perché in questo film Il Retire ci sta programmando qui vediamo una maglietta con un occhio qua del protagonista ci sta programmando ad accettare gli eventi che stanno per accadere in futuro a questo pecorame, questo bestiame ormai inerme nelle mani così hopeless come si dice in inglese, senza speranza, senza nessun tipo di potere nelle mani del Retire. Il Retire a questo punto una volta che ci ha staccato dall'indipendenza, cioè il hunter gatherer, cioè quello raccoglitore, cacciatore raccoglitore dove facevi tutto da te, il Retire ci ha dato la mela avvelenata, ci ha detto ma perché non vieni qua nel sistema? Adesso il sistema è talmente complesso noi siamo talmente impotenti che lui adesso può fare l'atto finale e cioè effettivamente quello di annientarci ma con una scusa perché deve essere bravo a farci comunque fare il tutto a noi stessi quindi vediamo come ci programmano con questo film che è al numero uno al primo posto tra i film, quindi il Retire vuole assolutamente su Netflix, quindi il Retire vuole assolutamente che noi vediamo questo film e questo film parla di distruzione, praticamente di emergenze, di guerra imminente, di attacchi hacker, cioè chi più ne ha chi più ne metta è anche la protagonista con la cosa della NASA, insomma non manca nessuno ci saranno terroristi che prenderanno controllo ovviamente di navi che le faranno sbattere nella spiaggia, le Tesla che cominceranno a guidarsi da sé perché l'hacker, lo hacker che bontà li ha possedute e li fa sbattere così l'infrastruttura è KO non ci si può più muovere perché le strade sono occupate insomma tutto questo è molto altro a the world left behind un po' di corna qua leave the world behind leave the world behind quindi andiamo io ho fatto delle schermate dal film e adesso le analizziamo I no longer think that this is just a couple of teenagers in the Philippines quindi i protagonisti mentre si trovavano in questo caos a un certo punto uno di questi dice siccome c'era quella storia che i due ragazzi nelle Filippine hanno mandato questo virus tempo fa oh cazzo ho detto la parola che non dovevo dirlo forse e quindi qui non si tratta di un semplice qui sono lo hacker veramente ben preparati che riescono a buttare giù un intero sistema ovviamente ovviamente questo ragazzi è il sistema stesso che crea tutto questo caos e dà la colpa ovviamente a questi immaginari terroristi un po' come con Bin Laden e con altre minchiate che crea sempre ragazzi quindi quindi il protagonista ci sta cominciando a dire che se è tutta una cosa ci sono i lo hacker che ci stanno praticamente non funziona più niente gli aerei cascano dal cielo eccetera eccetera proprio perché il lo hacker siccome il sistema non ha un modo di difendersi dal lo hacker lo hacker ormai può entrare ovunque caso e ovviamente ci fanno credere ci sono i terroristi qua ecco morte all'America ci sono questi volantini che tiravano giù dal cielo perché ah dobbiamo farvi fuori caso in realtà ragazzi è il rettile che crea tutto questo ha questo bestiame senza cervello e senza potere ormai e e ci dice anche in questo film che credere che è una un'elite che runs the world with the rest of the evil kapal that runs the world lui dice che è troppo semplicistica questa questa movente così complotti questa teoria complottista che praticamente poche persone controlla in realtà dice a conspiracy theory about shadow a group of people running the world is far too lazy of an explanation è molto sempliciotta come spiegazione in realtà nessuno è al comando qua dice il nostro protagonista e ragazzi dietro il protagonista e dietro il film ragazzi voi dovete capire che i film vengono fatti dal sistema capito o no? qui non è il produttore che voleva fare soldi con il film e si metterli in tasca a diventare ricco no le produzioni sono propaganda devono programmare il pecorame capito o no? e questa è la cosa che la gente non capisce quindi no one is in control nessuno è in controllo nemmeno queste elite come ci dicono questi complottisti diciamo questi pazzi complottisti ok? non sono loro qui nessuno è in controllo ragazzi le cose avvengono così proprio naturalmente a caso a un certo punto voi conoscete tutti quella storiella che dice che praticamente eh ma praticamente c'era questa inondazione e io ho pregato Dio dice ma e poi venne questo che cercò di aiutarmi con la zattera poi spassò uno con l'elicottero per cercare di tirarmi fuori io ho detto no 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 e poi lui quando morì si incazzò con Dio ma perché non mi hai aiutato e Dio dice ma io te l'ho mandato tutti gli aiuti possibili ma tu non li hai accettati e tra le cose che Dio avrebbe mandato a questo uomo in pericolo e qui ovviamente lo trasformano e dicono che io ti ho mandati gli alert i radio alert capito io ti ho mandato il messaggio di allarme alla radio perché tu non ti sei messo con le altre pecorelle nel punto di di incontro come ci sono in ogni comune adesso punti di incontro del pecorame tutti là vai lì che il rettile ti mette al salvo no cazzo perché non l'hai fatto ma invece non hai sentito ti sei voluto nascondere magari in montagna per cercare di scappare fare con la testa tua lo sai così cosa succede si muori mettiti insieme al grece che ti salvi invece no e qui poi ci essendo il film che ovviamente devono anche dividere le persone praticamente questi qua erano la coppia che si trovano in questa casa da soli in mezzo a questa emergenza erano una coppia di neri e una coppia di bianchi la coppia di neri dice a un certo punto non bisogna fidarsi dei bianchi questo è un classico il rettile deve dividirci ragazzi deve fare in modo che noi sospettiamo l'un l'altro perché se ci mettiamo insieme sono casi per il rettile caso ma noi purtroppo siamo stati fottuti del cervello abbiamo questa paura fottuta di noi stessi siamo totalmente deficienti e non non possiamo mai metterci insieme e quindi il rettile alimenta questo odio fra le pecore perché è l'unico modo che gli dà potere questo cioè noi dobbiamo essere sospettosi l'un l'altro ok questo a un certo punto ci parlano di questo diagramma di Van il diagramma di Van ok e io sono andato a vedere cos'è questo diagramma perché praticamente siccome la la bianca che è Roberts il Roberts come si chiama Giulio Roberts Giulio Roberto diceva quest'altro che l'uomo è stronzo l'uomo è cattivo insomma tramite gli attori esce fuori il veleno e l'odio che ha il rettile per noi e quindi se tu stesso pensi di infatti tramite questo film loro vogliono mandare queste immagini che l'uomo è un essere cattivo stronzo eccetera eccetera anche tu odi il genere umano non cooperi e il rettile vince a quel punto però ero curioso di vedere cos'è questo diagramma di Van andiamo a vedere cos'è questo diagramma di Van ragazzi mamma mia siamo in mezzo alla morte qua tristezza quando immagino chi sta vedendo questo video ragazzi mi viene da piangere diagramma di Van è chiaramente la sintesi dalle due estremi ok molto 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 è così massonico come concetto diciamo controllare per avere il controllo questa sintesi diciamo lo sappiamo tutti ragazzi mi viene da vomitare perché l'abbiamo detta alla alla nausea ormai questi concetti destra sinistra e poi insomma non si va da nessuna parte il concetto che ne abbiamo parlato mille volte questa roba e anche lo trovi anche la casa bianca questo ovale qui ovunque praticamente queste cose il verso che appare se cazzi va insomma non mi va più di cui sono rotti i coglioni parlare di questo simbologismo e cazzi ma andiamo avanti piuttosto perché siamo alla fine quindi cosa si dice ah ma tu non sai dice cosa qua praticamente che succede questa coppia a un certo punto i denti cominciano a cascare al bambino perché ovviamente c'è stata anche una una questione di armi nucleari ovviamente nell'aria che ti fanno cascare i denti qua e sono andati a casa di questo qua questo qua era un classico lo hanno così rappresentato come un pazzo perché ovviamente era quello che vuole il sistema perché siccome tutti quelli che sono armati in America e sono dei patrioti per dire vengono dipinti come dei pazzi schizzati di mente e ovviamente questo schizzato ci dice che ma voi non sapete non siete informati che i russi hanno richiamato tutto il loro staff da Washington e quindi dietro a questo c'è un'alleanza tra russi cinesi coreani tutti messi insieme arabi che ci vogliono proprio ammassare tutti quanti in realtà il rettile dietro a tutto questo ragazzi perché come abbiamo visto il 2020 il rettile controlla già tutte le nazioni ormai perché tutte si sono mosse all'unisono il 2020 e quindi è tutto benissimo creare qualsiasi tipo di teatro può dire al pupazzo russo di fare finta che lui poi non può anche non fare un caso ragazzi a base che la tv ti dice che i russi ci hanno buttato la bomba e tu ci credi perché l'ha detto la tv ragazzi questo è il mondo l'ovile in cui ci troviamo ragazzi a un certo punto loro proprio si diffidano l'un l'altro cioè le pecore ragazzi a un certo punto lui aveva la medicina questo qua aveva la medicina che poteva salvare il suo figlio che ovviamente gli stavano cascando i denti perché ci sono radiazioni che è caso non puoi scherzare però le pecore sono sospettose l'un l'altro e ovviamente si odiano si puntano le pistole l'un l'altro sono sospettose e non si riescono mai e cos'è il capoloro che ha fatto il rettile con noi ragazzi noi ci odiamo c'è gente che dorme a pochi metri in un palazzo per dire vicinissime nemmeno si parlano e si odiano ovviamente e si invidiano ok questa è la verità ragazzi divide and conquer poi a un certo punto gli hanno dato i soldi e questo gli ha dato la medicina la medicina ragazzi sarà molto importante in futuro perché quando il rettile ci dirà che Putin ci ha buttato una bomba ci darà la medicina che ti salva dalle radiazioni ovviamente e ovviamente in quella medicina ovviamente ci sarà qualcosa di bellissimo che fa molto bene alla tua salute e per questo ovviamente con il film qua e cioè questi qua praticamente erano disposti anche a morire da questo schizzato che aveva questa medicina piuttosto gli hanno dato mille dollari piuttosto che per avere questo cazzo di medicinale gli odio insomma cazzo si chiama minchiate le rettile ragazzi le radiazioni non esistono ovviamente e poi vabbè qui nel film non dicono sono le radiazioni dal nucleare ma tipo le radiazioni perché i terroristi sono in possesso di praticamente onde elettromagnetiche che ti fanno cascare i denti si è vero ragazzi il rettile ha il potere ormai di farci di tutto a noi e noi siamo nella merda che cazzo ci puoi fare che cazzo vogliamo andiamo a vedere maybe maybe all this means is a few of them teamed up ecco dice che praticamente questo significa perché lui dice eh ma questo volantino che tu leggi in arabo da altre parti dell'america lo hanno visto stampato in coreano in giapponese o in cinese soprattutto che i cinesi ovviamente ci odiano secondo la narrativa così ufficiale che danno al program e quindi può darsi che semplicemente vogliono confonderci così noi non capiamo un cazzo e cominciamo a non ci fidiamo di nessuno ci ammazziamo l'un l'altro tutto questo caos in realtà lui dice potrebbe benissimo che tutti questi pupazzi pupazzo russo pupazzo cinese ci sono messi insieme per ammazzarci perché ci odiano caso ci odiano tantissimo caso ammazzare noi è proprio proprio il loro scopo di vita dentro di tutto caso ammazzare gli americani casi perché no che caso eccoci qua e che continuano questi alert no che ci sono livelli di radiazioni molto molto alti emergency alert white house and major cities under attack by rogue armed forces quindi i terroristi stanno attaccanto e ci sono radiazioni molto levate caso c'è sempre qualcosa che non si può vedere che però ti amasa eh multiple population centers stava scrivendo quando mi ha fatto la schermata l'ho interrotto prima e ecco questo è quanto ragazzi cosa dire in tutto questo niente siamo alla frutta non c'è un cazzo non c'è la soluzione tu vuoi la soluzione da me se tu chiedi la soluzione a me tu sei già morto secondo me perché se tu non usi la tua testa che cazzo vuoi da me ecco arrivederci metti il pollice in giù e vai a sognare che ti arriva Gesù e te salva ok perché Emidio si diverte a mettermi pollici in giù sa quanto cazzo me ne fotta ognuno ha il suo la sua illusione ragazzi tornate alle vostre illusioni mettete il pollice in giù a questo video e andrà tutto bene